bello a tutti i miei slime qui al bentornati nel mio canale eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare l'exoton del wing clan featuring car brave ve lo dico già preparatevi perché stasera ha inizio una settimana veramente esplosiva droppano infatti il wing clan e daytona venerdì escono tauro boys che walk a kille lauro e forse mi sto dimenticando pure qualcuno ci saranno veramente un casino di reaction concentriamoci comunque su quella di oggi allora wing clan che dire l'ho ripetuto mille volte non mi stancherò mai di dirlo uno dei miei gruppi preferiti che poi è un duo ma vabbè sono tornati con un nuovo singolo questa volta featuring car brave prima volta che entrambe le parti collaborano tra di loro avevamo già sentito sia joe che tommy featuring franco ma con car mai sinceramente lui non mi piace tantissimo fa un tipo di musica che non mi ascolto ma non perché lui non sia bravo a farla anzi ma perché è proprio una wave che non mi interessa preferisco molto di più franco mentre per quanto riguarda il wing clan addirittura sembravano essere pronti a droppare verso la fine del 2020 avevano già firmato con universal avevano fatto uscire già qualche singolo questo è già il secondo del 2021 quindi se non hanno droppato allora penso che è proprio una questione di tempo massimo entro due mesi secondo me siamo agli sgoccioli senza perdere troppo tempo andiamo ad ascoltare l'exo tanto giù scacchi trattino ok nella classi mette soldi nella giacca la prima volta la prima emoglobine due bambini era bambina metto la sigla sul contratto mal di testa by ecco caro un po' real è pazziro ok sto flow l'ha già usato bene che dire bella mi è piaciuta onestamente si sente secondo me la volontà di aprirsi un po di più al mainstream complice di questo probabilmente anche l'entrata in universal ma nonostante questo non li ho sentiti troppo snaturati e credo che questa alla fine sia la cosa più importante ovviamente sia questa traccia che ho un amico per esempio con gli psicologi non è il classico wing clan come lo conosciamo è un nuovo wing clan e per il momento devo dire che non mi dispiace sinceramente avevo già dato per scontato che carl brave facesse il ritornello invece lo fa joe scacchi carl fa una strofa così come tommy e anche joe non mi è dispiaciuto nessuno dei tre fanno tutti delle belle strofe ho preferito quelle del wing clan ma credo sia semplicemente per il fatto che preferisco loro a carl per il resto che dire veramente niente male tra l'altro dovrebbero avere anche girato un video l'hanno spolerato quando hanno annunciato l'uscita del singolo e dovrebbe uscire forse domani forse tra qualche giorno comunque su youtube sembra fatto molto bene anche in questo caso si vede che dietro c'è la mano di un'etichetta quindi non vedo neanche l'ora di vedere quello anche se in realtà poi i video musicali personalmente non li seguo così tanto però mi sembrava figo e quindi son curioso in generale sono tanto curioso di sentire il loro album entrambi in questi anni hanno dimostrato di essere fortissimi di avere un sacco di talento di saper fare più cose e ora rivederli uniti in un progetto targato wing clan mi mette veramente un botto di hype ah una cosa che non so è chi ha prodotto la canzone lo vado a vedere giusto ora allora prodotto da the whale e nike ninja nike lo conosciamo io personalmente lo amo è uno dei produttori più forti in italia ora come ora non mi stancherò mai di dirlo di whale non lo conoscevo ma tutto sommato non mi sembra che abbiano fatto un brutto lavoro anzi vabbè tanto 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 hype per il 2021 del wing clan spero vivamente che blow upino anche perché direi che è arrivata l'ora voi cosa ne pensate del singolo del wing clan di car brave vi è piaciuta la canzone ditemi tutte queste cose qui sotto nei commenti se il video vi è piaciuto vi invito anche a lasciare un mi piace nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale se lo siete già invece attivate la campanellina in modo tale da non perdere tutte le reaction che usciranno questa settimana e non solo vi ricordo anche di passare dai link in descrizione dove trovate i miei social e anche le mie playlist su spotify se volete tutte le playlist perché ne ho fatte un botto anche sugli altri artisti basta che mi seguite su spotify andate sulle mie playlist e sono tutte pubbliche condividete questo video con quanta più gente volete e potete noi ci vediamo ad un prossimo slat ciao ciao ciao